Marie-Souzanne Simonon Promettete addio, castità, povertà e obbedienza? No, padre. Figliola mia, nessuno ha mai preso i voti contro la sua volontà. Suor Christine, la nuova madre. Avete cercato di scrivere a qualcuno? Spogliatela. Completamente. Mi stanno umiliando e credo che vogliano uccidermi. Nascondetelo. Perché? È importante. Vi invito a implorare la misericordia di Dio per una sorella che l'ha abbandonato. Perché non vi confessate? Perché me lo impediscono. Siete indegna delle vostre funzioni. Avete fatto buon viaggio, figlia mia. Sì, madre. Magnifico. Suor Suzanne, voi non mi amate? Sì che vi amo. No. Ditemi che cosa devo fare per provarvelo. Farò di tutto per tirarvi fuori di qua. Oh, posso? Aiutatemi! Mio Dio. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.